I barlettani ogni 3 ottobre sentono ancora risuonare le sirene che si susseguirono dopo il crollo della palazzina che avvenne in via Roma alle 12 e 21 di 12 anni fa. Una tragedia che costò la vita alla giovane studentessa Maria Cinquepalmi e a quattro operaie del laboratorio tessile ospitato all'interno, Tina Ceci, Matilde Doronzo, Giovanna Sardaro e Antonella Zaza. Nello stesso luogo questa mattina l'amministrazione comunale ha deposto una corona di fiori alla presenza delle autorità civili e militari. Tutti hanno servato un minuto di silenzio. Un gesto ripetuto oggi anche in via Canosa dove nel 1958 morirono 58 persone sempre a causa della maledilizia. Barletta pensa alle 5 vittime di quel dolorosissimo episodio che purtroppo la città di Barletta ha visto anche altri episodi, parlo di via Magenta, di via Canosa. Non è soltanto il ricordo, è anche un monito a noi amministratori a far sì che tutte le procedure amministrative, tecniche e amministrative siano alla fine realizzate nel migliore dei modi per evitare che simili crolli si accadano ancora nella nostra città. Perché purtroppo la città detiene questo triste primato di crolli di palazzi con vittime e quindi è dovere nostro ricordarlo e ricordare a noi stessi che dobbiamo stare molto attenti nelle progettazioni. L'11 agosto scorso i giudici della Corte di Cassazione hanno rigettato i ricorsi di due degli 11 imputati nel processo riguardante il terribile crollo di via Roma. Il progettista e direttore dei lavori Giovanni Paparella avrebbe trascurato di adempiere i servizi di controllo, superficialità definita disarmante nel caso del geometra Vincenzo Zagaria. Il primo è stato condannato a tre anni e undici mesi di reclusione, il secondo a tre anni e sette mesi, assolto un dipendente dell'impresa mentre un ingegnere è beneficiato della sospensione condizionale della pena. Il termine della vicenda processuale potrebbe essere determinante per l'inizio di una nuova vita per quel palazzo ormai preda dell'incuria. Non abbiamo ancora un progetto, anche perché l'iter giudiziario non è completamente chiuso e definito, però l'idea nostra è quella di far diventare questo luogo un simbolo della mala costruzione e quindi un monito a tutti quanti noi è stare attenti, come dicevo prima, a che simili episodi non accadono più nella nostra città, anche se purtroppo possono ancora accadere perché Barletta ha anche palazzi molto vecchi e quindi più tempo passa e più questi luoghi diventano più vecchi e quindi bisogna sempre stare molto attenti alla sicurezza. Non si deve dimenticare, noi siamo qui proprio per questo motivo, per dare la nostra testimonianza e la nostra vicinanza anche a tutti gli altri che purtroppo hanno subito questi gravi lutti, come abbiamo visto già il crollo di Via Canusa nel 16 settembre. E insomma la nostra testimonianza serve proprio a questo, perché si ricordi sempre e non succeda più quello che è successo. Una cosa importante, ci piacerebbe che si facesse un po' di pulizia e vorremmo venire l'anno prossimo in questo sito dove potremo avere un piccolo giardino, qualcosa, una panchina, un albero dedicato a queste ragazze, sarebbe molto bello.